Ci dobbiamo sciacquare la bocca con l'aceto. Io ho detto che non ho un macchino dentro, quindi non c'è bisogno di una macchina. E si va avanti in questa maniera. Ovviamente li facciamo incazzare, ma dire che la mafia fa schifo, che sono dei pezzi di... Ormai loro lo sanno, non è che... E allora per fargli il danno gli dobbiamo mettere la mano dentro le testi. E lì si incazzano. Perché la mafia nasce. E quando tu gli fai un danno economico, le spalle. Negli anni 90 a Partenico si costruiscono in un antico borgo del Settecento, Settecento, riescono in una nostra buttare per terra con una russa tutti sluderi, proprietari terriere 60 partenicesi, c'erano le piccole case, ma è stata gritta come me. Poi sei che date. Non è vero che c'erano tutti, ma è vero che sono parte. Grazie a tutti.